Carissimi amici, fratelli, sorelle, pace del Signore, buona giornata, Dio benedica la vostra vita in questo 10 gennaio, un altro giorno che ci viene donato da parte di Dio e che vogliamo iniziare leggendo un verso della scrittura. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, leggeremo il verso 23, un breve verso nel quale l'Apostolo Paolo affronta un tema importante, quello della santificazione. Infatti è scritto, ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Innanzitutto il desiderio di Paolo è che appunto possano essere questi credenti santificati in modo completo. Tutto il loro essere, l'anima, lo spirito e il corpo, perché noi siamo composti da queste tre parti, dovevano essere conservati irreprensibili. E quando parliamo di santificazione è importante cercare di capire per bene cosa la parola di Dio intenda con questo termine. A tal proposito bisogna considerare i tre aspetti della santificazione, perché la santificazione, che è un qualcosa di fondamentale, infatti è scritto altrove di cercare la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, è innanzitutto qualcosa che noi realizziamo in Cristo. Infatti vi è una santificazione che viene definita anche di posizione e che è dovuta al fatto che noi, accettando Cristo Gesù come nostro Salvatore, veniamo guardati da Dio non per quello che noi siamo ma attraverso Cristo e quindi veniamo visti in Lui santi. Ebrei 10.10 infatti afferma che siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Quindi c'è questo primo aspetto, l'essere in Cristo è qualcosa che ci permette di essere santi, visti santi da parte del Signore. Ma naturalmente questo non è la condizione ultima alla quale l'opera della grazia mira. Perché poi c'è un aspetto della santificazione, quello a progressiva, che si deve manifestare nella nostra vita tramite la crescita spirituale. Ed è qualcosa che avviene quotidianamente. Siccome santificare significa mettersi da parte, significa separarsi, questo vuol dire che nella nostra vita dobbiamo quotidianamente allontanarci da tutto ciò che è peccaminoso, corrotto, che è contrario alla volontà di Dio. E in questo lavoro naturalmente noi abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio ma anche di una nostra ferma decisione. E infatti l'Apostolo Paolo nello scrivere ai Corinzi, nella sua seconda epistola al capitolo 7 al verso 1, afferma, siccome abbiamo queste promesse purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito compiendo la nostra santificazione nel timore del Signore. Abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio? Certo, ma abbiamo la necessità da parte nostra di prendere una decisione, quella di seguire e di servire il Signore. Allora sarà possibile realizzare quel cammino di santificazione che ci porterà un giorno a raggiungere la perfetta statura di Cristo. E quindi, cari, anche oggi siamo chiamati a purificarci, siamo chiamati a separarci, siamo chiamati a allontanarci da ciò che è contrario alla volontà del Signore. E poi la santificazione, ultimo aspetto, è qualcosa che si raggiunge, o meglio, che raggiunge la sua perfezione quando noi saremo nel cielo, nella presenza di Dio. Perché fin quando siamo su questa terra ci saranno sempre delle imperfezioni. E nonostante il nostro desiderio di essere al 100% secondo la volontà del Signore, in qualcosa mancheremo. Questa è una triste realtà con la quale però ci troviamo a convivere e a scontrare ogni giorno. Ma un giorno, quando saremo nella presenza di Dio, allora potremmo dire anche noi di aver raggiunto la perfezione. Infatti Paolo, nello scrivere ai Tessalonicesi, al capitolo 3, dal verso 11 afferma, ora Dio stesso, nostro Padre, e il Signore Gesù ci appianino la via per venire da voi. E quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio, nostro Padre, quando il nostro Signore verrà con tutti i Suoi Santi. Lì ci sarà la perfezione. E infatti Paolo, nello scrivere ai Filippesi, sottolinea ancora una volta proprio questo aspetto. E infatti dice, riguardo alla sua cammino spirituale, non che io abbia già raggiunto tutto questo, sia arrivato alla perfezione, ma prosegue il cammino, per cercare di afferrare ciò per cui sono stato afferrato da Cristo Gesù. Ribadisce, fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta, per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. E allora anche oggi protendiamoci, anche oggi continuiamo il cammino, anche oggi ricerchiamo e riguardiamo alla meta, al premio celeste che ci viene presentati. E con l'aiuto del Signore lo raggiungeremo. Cosa possiamo fare questa mattina? Beh, innanzitutto fare un esame sincero, serio, onesto della nostra vita spirituale. Provo a confrontarmi con un mese fa, con un anno fa. Ho fatto dei progressi? La mia santificazione è più evidente del passato? O è sempre la stessa? O addirittura c'è stata una regressione? Ho permesso a vecchi visi, a vecchi pensieri, a modi di agire di questo mondo, di entrare nella mia vita? Allora in quel caso vado ai piedi del Signore, prima cosa mi pento e mi ravvedo e chiedo al Signore di perdonarmi e poi mi impegno personalmente davanti a Dio per dire Signore io da oggi col tuo aiuto voglio tornare a spazzare via tutto quello che è contrario alla tua volontà. So invece nel fare questo confronto col passato qualche passettino più avanti, do gloria a Dio e non mi gloria e non mi vanto di quello che ho raggiunto ma mi continuo a protendere verso la perfezione, dimenticando i risultati raggiunti e dicendo Signore perché è vero c'è ancora tanto da fare nella mia vita, io voglio continuare a crescere perché voglio raggiungere l'obiettivo che tu mi hai posto, quello di essere irreprensibile nella santità quando comparirò alla tua presenza. Coraggio cari, il cammino sulla via della salvezza è un cammino duro ma con l'aiuto del Signore e con il nostro impegno riusciremo a raggiungere la meta. Che Dio ci possa benedire e accompagnare durante questo giorno e aiutarci a proseguire nel cammino di santificazione. Pace del Signore. Grazie a tutti! Grazie a tutti.